ciao a tutti sono papà del canale di ioara e papi mi raccomando seguiteci sul nostro canale attivate la campanellina e metteteci un bel like ma ti sembra il modo comunque volevo dire nella mia intro a parte questa intrusione che pratica intro intrusione volevo dire che la mia intro che oggi ci sarà una bella sorpresa perché ioara si è trasformata in bimba di tre anni in che senso non mi sono trasformata che compie il che compie il compleanno che compie gli anni che compie gli anni e io gli ho fatto una sorpresa per il suo compleanno un bel percorso da fare con dei palloncini bendata non ci riuscirà mai e se ci riesce avrà un bel regalo ali 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 ioara ioara siamo pronti per iniziare mi raccomando seguiteci andiamo tutti quanti di là e ci divertiremo allora siamo pronti per partire e gioara come l'avete ben data gioara ci vedi ci vedi fammi vedere no non ci vedi, mi sembra proprio, questi quanto sono? 56. Brava, allora, non ci vede, possiamo andare, ti porto io nella stanza, ecco qua, vai, vai, una porta, non è una porta, vai sempre diritto, vai sempre diritto, ma dove stanno andando? Questa è la porta, vai, entra nella porta, spingi, spingi, questa è la porta, no, questa è la porta del bagno, non vedi che c'è il bagno, devi tornare, no, non c'era il gradino, andiamo di qua, sempre dritto, 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 vai qua dritto, vai qua dritto, vai qua dritto, hai sbagliato, vai qua, dritto, allora, il gioco, cara Yohara, che funziona così, c'è un piccolo percorso da fare con i palloncini, tu dovrei farlo senza sbagliare, ho detto via, ho detto via, ho detto via, senza sbagliare, il premio finale sarà una sorpresa che troverai, alla fine, questo è il premio finale, ma solo se riuscirai a fare il percorso, puoi partire, adesso ti metto in direzione del percorso per darti una mano, ok, ok, non ti muovere, ecco qua, puoi partire, vai sempre dritto e fai il percorso, hai sbagliato Yohara, mi dispiace, hai un'altra possibilità, adesso ti metto nel percorso, ecco qua, ecco, questa adesso sei pronta nel percorso, parti e via fino al, bravi, un altro poco, vediamo, hai sbagliato, mi dispiace, ehi, ma tu stai imbrogliando, non è vero, guardate che, ecco qua, i capelli, non mi fai imbrogliare, ma sei un po' spostato, hai sbagliato di nuovo, riprendiamo di nuovo, aspetta, dobbiamo mettere, fammi vedere, vai, vai, diritto, 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 lontano, puoi aprire, apri, che sta, non ti senti bene, che sta, non ti senti bene, che è successo, che è successo, un bracciale collano, dove vai, siamo in casa, dove te ne vai, ma è senza rotelle, eh certo, tu, ormai sei grande, hai tre anni, no, ma ora ho quattro, quattro anni, la devi portare senza rotelle, no, non so sopportare, ma mi interessa, questa è la vita, ma la mantieni, io ti devo mantenere, va bene, ti mantengo, no, dai, ti sto mantenendo, dai, dai, poi prosegui così, dai, prosegui, andiamo nel comidario, andiamo al mercato, che hai detto, proviamo con una benda, no, senza benda, ma nemmu, provi senza benda prima, vai, ottimo, bravissima, bravissima, hai fatto anche un metro, oh, oh, ottimissimo, adesso come giri, boh, bella domanda, hai un'idea, hai un'idea, hai un'idea, hai un'idea, ma è un po' stretto qua, guarda, non si può, guarda com'è stretto qua, guarda, non si può andare con la bici qui in me, ecco qua, possiamo andare, ma com'è qua, che, 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 dove sta, sull'immanubria, Giovanni? ah, è torto, ma qua c'è qualche, ah, Giovanni, non puoi andare sulla bici al contrario, fai la serie, fai la serie, non puoi andare sulla bici al contrario, adesso gira la bici e vieni da papà, guarda qua, vediamo se ci riesci, sì, ma ti ha bendato, eh, ti ha bendato, non bendato, non ci riesci, guarda ti ha bendato, fatelo andare sul piede, fatelo andare sul piede, c'è anche il venino, cos'è questo? come cos'è questo? eccola qua, così, allora, vediamo se, io mi metto qua, è tutto storico, e la vita è così, vieni, ecco qua, papà ti aspetta, lo puoi investire, ma tu è vicino? non ci arrivi io, ah, 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 lascia stare i muri, lascia stare i muri, aiuto, aiuto, ah, 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 hai il piede, lo vediamo che è andato sul piede, chi è? iu, iu, chi è iu, 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 lascia, non muovere il mio, non muovere il mio, non muovere, ci sono le cose mie, ah, vediamo quel che è, no, no, Ioara, lo vedi o no? Ioara, ti boccio, eh, guardate, ti boccio, no, 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 non ti fanno vedere queste cose, dammi il mio portafoglio, ah, lascia perdere il portafoglio, ok, siamo riusciti, hai avuto la bicicletta come regalo di quattro anni, questo era il sedile, ho capito, il sellino, la sella, ecco, il cuore, il cuore, l'unicorno, il campanello, come fa il campanello? qua, 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 il campanello fa qua, qua, che ne va, per favore, per favore, per favore, per favore, ok, aspetta, ma le candeline, le candeline, le candeline, fuori i candelini, dimenticando le candeline, cosa hai detto? niente, niente, le candeline, non si portano più, non è più la moda delle candeline, hai capito, hai capito, non è più, dove spegno, nelle tabelle, le tabelline, le tabelline adesso, adesso le dirai, tutte e quante, no, le tabelline, guarda, si rompe il letto, lui, no, ah, aspetta, qua dovrei, no, ce l'avevo, che ce l'avevi? mini, ma quale mini, non c'è nessuna mini, salto, 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 oh mamma, ah, 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 sei morto, che succede, è svenuta, fammi vedere se è svenuta, è svenuta, io, vediamo che è tornata, è tornata una bimba, la più di 4 anni, ma di, da di 8 anni, 2, 8 anni, 4 anni in più, buona, 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 ah, che roba è, cosa è successo, cosa è successo, dico, cosa è successo, cosa è successo, cosa è successo, cosa è successo, hai fatto un fantasma, aiuto il fantasma, che sta compilando, ma che, si è fermata, ma che roba è, ciao, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, ancora, lei ha scelto, tu fantasma, ma qual è, ah, 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 aspetta un attimo, ma adesso, che ti guardo, meglio, anche io ti guardo meglio, fammi vedere, il telefono, che tocchi, papà, ma quale papà, papà, ma quale papà, che ti conosce, perché sono vestita così, perché, tu sei una bimba di quattro anni, no, di otto anni, di quattro anni, ti sei diventato, vedi che c'hai capelli così, questo ti sembra i capelli di una bimba di otto anni, hai capito? hai capito? hai capito? hai capito? hai capito? Joara, 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 che roba è, non ci posso credere, hai avuto la bicicletta, hai visto? questa è senza radella, perché sei una bimba di otto anni, domenica, la portiamo in piazza, così, andiamo a giocare, con le amiche, due, che le amiche due si chiamano, che è successo qua? è una storia lunga, Joara, c'è un piccolo percorso, piccolo percorso, ma sono bellissimi, di questi pagliancini, eh lo so, ma guarda, devo andare a letto, eh sì, dobbiamo andare a letto, oh oh oh, vediamo un po' qua, oh oh, eh che è la sci, aspetta, tu, 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 devo prendere, io, io, no, va bene, diciamo che ormai è ora di andare a letto, noi vi salutiamo, salutiamo anche Minnie, ciao Minnie, eh, è ora di andare a letto, Joara anche saluta i cuoricini, ciao a tutti i cuoricini, Joara vi saluta per la buonanotte, ah, voi mi chiamate cuoricini, sì abbiamo cambiato, prima si chiamavano pollicini, ma si chiamano cuoricini, e stelline, e stelline, tutte e due, sempre cose belline, carine e suiziosi, e scelte da Joara, sempre scelte da Joara, qua comando a Joara ragazzi, papà è solo un cameraman, vieni qua, ti facciamo saluti, vieni qua un attimo, dammi la mano, beh, e la do la mano, ecco, ehi, ma ti sei seduto, eh, dimmi, che dobbiamo fare, ciao, ti sto salutando, devi mettere qua la mano, se la vuoi salutare, non vi vedo, eh, ciao, ti sto salutando, no, no, allora saluta tu dai, ciao a tutti, se vi è piaciuto questo video, mettete tanti, guardate quanti libidi che ho, eh, guardate, guardate, il mio gruppo di libidi, dove sta? eh, vabbè, è normale che c'è dei libidi, no? tutti c'hanno dei libidi, qua c'è anche la bellissima, è normale, chi si mangia le unghie? io, l'avevamo già capito, tu sei una mangiadrice professionale di unghie, non è che sei una mangiadrice principiante, anche le pelliccine, invece non si fa, lo sai? vedo che lo so che si fa, eh, va po', va po', va po', va bene, buonanotte, a tutti quanti, ci vediamo domani, ci vediamo il prossimo video, non lo so se lo facciamo domani, forse no, venerdì lo facciamo, va bene? no, venerdì devo andare da l'oculista, non lo so quando, allora, venerdì non vado a scuola, ma ho la verifica, devo finire la verifica, vabbè, ma vediamo, comunque, ciao a tutti, e buona notte!